Ciao a tutti, questa è una pianta di annona, è piantata in Sicilia, è una pianta di tre anni e quest'anno ci ha dato i primi frutti. Eccolo qua, così pronto per essere raccolto. Anche in Sicilia è possibile coltivare questo frutto dando un bel po' d'acqua d'estate quando fa caldo. Buona giornata a tutti.